La cattedrale metropolitana di Santa Maria del Fiore. Il cardinale Pietro Valeriano Duraguerra, legato di Papa Bonifacio VIII, pose solennemente la prima pietra della nuova basilica nella festa della Natività della Madonna del 1296. 8 settembre. Il Villani racconta che essa venne dedicata alla Madonna del Fiore e il mosaico in controfacciata raffigurante l'incoronazione di Maria e il ciclo scultoreo di Arnolfo di Cambio sulla facciata esterna, con le storie della Vergine. Farebbero ritenere attendibile che sull'esempio delle cattedrali gotiche francesi la nuova cattedrale fosse stata intitolata a Maria, ma dai documenti d'archivio opera risulta che il vecchio titolo di Santa Reparata fu usato ufficialmente fino al XV secolo e anche i cittadini continuarono a chiamarla con il vecchio titolo almeno fino al 1412, quando un decreto della Signoria impose l'obbligo della nuova denominazione. Ambigua il significato del fiore e forse è un riferimento al giglio dell'annunciazione dell'angelo alla Madonna, forse allo stemma di Firenze o all'origine stessa del nome latino della città Fiorenza.